Questa è la recensione del Xiaomi e Dashcam, una piccola Dashcam che ho comprato su Amazon era un'offerta a 40 euro ma per gli utenti Amazon Prime era in super promozione a 20 euro addirittura insomma ho detto perché non comprarla? Così è stato, mi è stata spedita dall'Inghilterra a tempo 5 giorni 5 giorni ed è arrivata, considerando che c'era di mezzo anche sabato e domenica direi niente male ma comunque si sa com'è, lavora Amazon Prime Allora adesso vediamola un pochettino qui c'è un piccolo schermo e sotto ci sono i tasti registra anzi meglio, ci sono i tasti, dopo ne andiamo un po' a leencare c'è la porta micro USB che serve per ricaricare la piccola batteria che la Dashcam integra ed è possibile collegarla al computer come archivio di massa quindi lo colleghiamo al computer e abbiamo accesso alla memoria della Dashcam lì sotto c'è il pulsante invece di reset qua sotto nulla, a parte la griglia di aerazione scusate un po' le vibrazioni ma non ho lo stabilizzatore qui abbiamo la micro SD è possibile inserire solo micro SD da 8 a 64 giga massimo e devono essere necessariamente di classe 10 se la micro SD è di classe inferiore quindi lenta la Dashcam non sarà in grado di registrare non vi farà registrare questo qui è il sensore 165 gradi Super VDR Optical Lens questa qui è l'apertura di 1,8 del sensore direi molto buona infatti di notte dovrebbero venire bene le registrazioni accendiamola premiamo allungo eccola qui e questo è quanto questo è il piccolo display non è particolarmente definito però insomma assolve la sua funzione alla sua funzione in maniera egregia allora il primo tasto da sinistra il tasto record avvia la registrazione d'emergenza cioè noi lo premiamo e la Dashcam inizia a registrare un filmato che vale dai 10 ai 20 secondi finito questo la videocamera si stopperà questo tasto invece interrompe la registrazione e avvia la registrazione ho sbagliato non fa niente ok la urgent recording non è possibile interromperla perfetto poi questo qua abbiamo il tasto per accedere alle registrazioni che abbiamo fatto per muoverci all'interno del menu e tutto il resto poi premiamo qui e ci sono le impostazioni la prima riguarda la risoluzione del video che varia tra 30 frame al secondo 1280x720 pixel full hd 1920x1080 30 frame al secondo full hd 60 frame al secondo ma di notte è poco raccomandata perché i tempi di esposizione si accorciano e quindi le immagini verranno oscure quindi vi consiglio il 30 frame per secondo e poi abbiamo una risoluzione maggiore al full hd che non è 2k infatti è una risoluzione un po' strana comunque io tengo il il full hd poi andando avanti abbiamo la possibilità di disattivare o attivare il microfono questa qua è la sensibilità del sensore di accelerazione verticale e orizzontale quindi nel senso che nel caso in cui qualcuno dovesse venire a sbatterci la dashcam inizierà a registrare 20 secondi di video 10 secondi antecedenti alla botta che abbiamo preso e 10 secondi successivi questa funzione regola la sensibilità che va da bassa ad alta quindi in alta sensibilità basta anche un piccolo colpo per far iniziare la registrazione quindi un fosso quindi per esempio un fosso invece una sensibilità più bassa permette di filtrare quelli che sono per esempio accidentali buche o altro questo qui è il tempo di spegnimento dello schermo l'adas che cos'è l'adas praticamente è l'assistente di corsia vi dice vi bippa nel caso in cui state per diciamo sorpassare la vostra corsia è utile inutile io lo tengo disattivato sinceramente è sicuramente meglio non guidare senza distrazioni telefoni e cazzi vari questo qui è il wifi e si perché questa telecamerina ha il wifi perché è possibile con l'applicazione da smartphone collegarsi all'interno della memoria della della dashcam e visualizzare e visionare quelli che sono i vari filmati possiamo salvarli possiamo controllare anche le immagini live della della videocamera e tutto il resto dopo farò un focus sull'applicazione qua formattiamo la micro sd qua le impostazioni predefinite data e tempo questa funzione permette di avere un data e ora sullo schermo anche quando diciamo la la dashcam non è in uso quindi la macchina è spenta e la dashcam mostrerà sempre data e ora io l'ho tenuto disattivato questi qua sono i suoni il suono power off cioè il il cicalino che fa quando accendiamo e spegniamo questo qui è il bip che sentite quando mi muovo tra le varie voci driving report che non so che cosa sia non c'è scritto nemmeno sulle istruzioni e queste qua sono le informazioni direi che la disamina è finita io la ricollego qua tra l'altro c'è il suo attacco io la ricollego qui qui c'è la sua diciamo basetta è un non è una ventosa c'è un adesivo della 3M e praticamente si incolla il vetro e poi ci sono una serie di levette che è possibile svitare e avvitare per orientare la la dashcam e poi ristringere per farla rimanere stabile questo qui è il cavo usb e diciamo che il montaggio alla fine la difficoltà è quella perché nel mio caso anzi nel caso della maggior parte delle persone dobbiamo andare a collegare la dashcam all'accendisigari scusate il mio piede il mio bellissimo piede sperando non ci siano dei feticisti tra di voi bisognerà collegarlo all'accendisigari ora voi vedete che io l'accendisigari ce l'ho qua ma non ce l'ho qua perché io l'ho collegato sì all'accendisigari la prima volta però poi mi sono reso conto che l'accendisigari era sempre alimentato questo che cosa vuol dire la dashcam si accende ha la funzione di accendersi e spegnersi quando accendiamo o spegniamo il motore però nel mio caso e nel caso la maggior parte delle persone l'accendisigari è sempre alimentato anche a macchina spenta quindi praticamente la dashcam restava sempre accesa e registrava sempre il che non è comodo perché uno ogni volta deve ricordarsi di accendere oppure spegnere la dashcam di far iniziare il video e alla fine finisce che non la si usa mai quindi che cosa ho fatto poco fa allora a parte che questo qui è l'accendisigari solo che l'ho pressato qua dentro in modo che ci sia ma non ci sia qui sotto ho preso l'accendisigari e praticamente ho inserito il suo adattatore che va dentro l'accendisigari ed esce l'uscita USB quella 2.0 o l'USB tradizionale quindi che cosa ho fatto ho preso questo accendisigari da una parte ho collegato una massa una massa qualsiasi e dall'altra parte la fase l'ho collegata alla pompa della benzina perché ho pensato che cosa si accende e si spegne ogni volta che giro la chiave la pompa della benzina è chiaro quindi che cosa ho fatto ho aperto la scatola dei fusibili ho collegato una fase diciamo alla pompa della benzina chiaramente dopo ho dovuto rimettere un altro fusibile e tutto il resto non vi faccio vedere il lavoro perché dopo sarebbe troppo lungo poi chiaramente da macchina a macchina il procedimento è diverso quindi ho arrangiato in questo modo e adesso la camera si accende e si spegne ogni volta che giro la chiave che spengo oppure accendo il motore e questo è molto molto comodo chiaramente accendendo e spegnendo il motore la registrazione partirà in automatico e si stopperà in automatico si stopperà dopo dieci secondi che abbiamo spesso il motore quindi io adesso passerei diciamo la parola anche se è improprio dirlo alla dashcam adesso ci facciamo un giro così vediamo un pochino la qualità imposterò 1920x1080 a 60 frame al secondo e niente ok allora adesso la dashcam è spenta la macchina è spenta giriamo la chiave ed eccola qua e parte la registrazione spengo aspettiamo dieci secondi e la dashcam si è spenta bene ora andiamo a farci un giro la